e a proposito di youtube ma si è sentito porca troia famiglia scusami ma si è sentito porca troia e a proposito di amici di Mo Magazine ben ritrovati benvenuto al maestro Giorgio Vanni autore, chitarrista, cantante voce di una generazione ballerino ballerino artista 360 una leggenda autore delle più grandi sigle che hanno cresciuto letteralmente una generazione e oggi qui con noi perché io so che tu hai nuova musica in cantiere un nuovo disco in arrivo io non accenno nulla lascio a te presentazioni, spoiler cosa bolle in pentola ci dobbiamo aspettare ce li hai 3-4 ore abbiamo tutto il tempo allora intanto grazie di avermi invitato poi voglio precisare ma voglio solo precisare che sono autore insieme coautore insieme all'ammiraglio Max Max Longhi lo sai sicuramente che io vengo chiamato dai miei da chi mi segue dalla ciurma capitano grazie alla sigla queste due sigle fortunatissime di questo cartone meraviglioso ma non si capisce niente di One Piece allora io vengo chiamato capitano Max viene chiamato ammiraglio per cui insieme a lui abbiamo costruito questa mi viene valigia questa grandissima valigia ampia valigia che contiene tantissime sigle dei cartoni animati che ci hanno portato ci hanno portato ad essere cioè dirlo ad essere amati perché rientriamo nei ricordi dei vostri anche tu in ricordi molto importanti della vostra infanzia di periodi quasi sempre per quasi tutti felici per cui questo è stato questo è molto bello insomma molto molto bello intanto cosa succede che le sigle fino adesso sono state fatte in un certo modo alcune le abbiamo anche rivisitate però non abbiamo mai messo queste rivisitazioni su un disco sul proprio sul sul cd insomma su un supporto ufficiale quando io mi mettevo davanti al telefonino e facevo storie o post su instagram e suonavo queste queste sigle soltanto con la chitarra c'era un un grandissimo riscontro c'è stato un grandissimo riscontro per cui max ed io max che è più la parte come si può dire più la parte organizzativa ok è anche una parte importante artistica però è più io ho bisogno di buttare idee no di sfornare idee tante idee e il connubio con max riesce molto bene perché lui prende queste idee le catalizza ok e poi le elaboriamo insieme e costruiamo definiamo il lavoro così succede nella composizione delle sigle dei cartoni animati così succede anche nei progetti che facciamo io magari butto un po' di idee e lui appunto le catalizza e ha detto ok va bene c'è la ciurma facciamolo c'è la ciurma che chiede tantissimo un prodotto un disco una raccolta di sigle fatte magari in modo acustico in modo acustico alcune sono fatte in modo acustico sto parlando del nuovo disco che uscirà non so quando rispetto al permesso rispetto alla condizione in cui potremmo essere si fra un po' appunto rispetto a questa situazione di pandemia dobbiamo capire quando farlo uscire per sfruttarlo nel modo più adeguato volevamo far uscire questo disco adesso spiego meglio di cosa si tratta questo disco volevamo far uscire questo disco una raccolta di sigle di cartoni animati che abbiamo fatto rivestite cioè riarrangiate in modo alcune in modo acustico altre in modo alternativo e poi ti spiegherò volevamo farlo uscire in concomitanza della riapertura dei live però la pandemia questa condizione non ci permette ancora di avere una data sicura per cui stiamo aspettando il disco è pronto uscirà un singolo che quasi sicuramente sarà l'abbiamo già detto però sarà non è proprio uno scoop sarà la sigla di Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh rifatta in modo alternativo non direi proprio acustico sì è acustico elettrico ma riarrangiata bossa nova Yu-Gi-Oh bossa nova perché Yu-Gi-Oh bossa nova perché durante una live io invitai dei ragazzi che vivevano in Portogallo e italiani ovviamente che vivono in Portogallo e una ragazza che vive in Brasile italiana che vive in Brasile tutti e tre io chiesi qual è la sigla che vi piace di più vi faccio una sigla vi canto qualcosa e tutti e tre vogliono sentire Yu-Gi-Oh per cui io pensando che due erano in Portogallo e una era in Brasile mi è venuto in mente vabbè ve la faccio bossa con la chitarra a Max piacque molto questa idea e per cui poi con il gruppo abbiamo aggiunto ovviamente tutti gli strumenti con il gruppo i figli di Goku abbiamo abbiamo registrato Yu-Gi-Oh in versione bossa sì l'idea è partita comunque dall'acustica cioè dalla chitarra acustica e qua la vorrei prendere ma per cui come Yu-Gi-Oh altre sigle Dragon Ball Dragon Ball 1 non What's My Destiny Dragon Ball GT Dragon Ball Super i Cavalieri dello Zodiaco e altre sono appunto appartengono a questa raccolta a questo nuovo CD che si chiamerà Giorgio Vanni The Gold Session volume 1 featuring Max Longhi perché anche lui oltre ad arrangiare nel disco suona come in tutte le altre sigle ovviamente e Future anche i figli di Goku perché molte molte delle sigle molti arrangiamenti sono stati eseguiti suonando insomma non solo con strumenti che arrivano dalla tecnologia cioè dal computer ormai facciamo tutto col computer basi ma non è tutto però non è una cosa perché tu hai detto eh sì però non è una cosa negativa perché io mi sono un po' rotto le balle si può dire rotto le balle sai quando dicono fanno le interviste a questi musicisti o artisti no? e più il giornalista che dice ah questo pezzo l'ha eseguito con la chitarra suonando dal vivo ma che bello dal vivo è un un valore in più un valore aggiunto sì va bene meraviglioso io suono la chitarra mi piace tantissimo suono anche le percussioni però quando io ascolto una base fatta tecnologicamente col computer io mi emoziono lo stesso chi se ne frega cioè devi essere capace va bene se sei capace se hai questa la capacità il know how se sei capace di suonare uno strumento bene e se riesci a intrattenere suonando lo strumento alla fine è uno strumento è uno strumento fantastico ma anche anche il anche i prodotti fatti tecnologicamente cioè col mouse con la tastierina e col computer possono essere altrettanto emozionanti cioè dobbiamo andare un attimo dobbiamo sdoganare questa cosa qua poi mi sembra di aver spiegato tutto allora nuovo cd non sappiamo ancora siamo condizionati ecco devo dire questo condizionati dalla situazione dobbiamo aspettare appunto che ci dicano ok va bene si può ricominciare a fare le live e allora faremo uscire il cd perché noi il cd lo distribuiamo lo vendiamo durante le live perché chi ci segue vuole ancora il supporto firmato dal capitano dall'ammiraggio il supporto fisico perché perché poi diventa un un feticio un come si dice un ricordo no qualcosa da tenerli per ricordare infatti molti se ne compran due perché uno lo tengono imballato ancora imballato e l'altro lo sballano e quindi c'hai già spoilerato qualcosa e quindi direi a proposito del proprio del tuo percorso come ti sei avvicinato alla musica e poi in un secondo momento proprio al mondo delle sigle mia madre e mio padre erano dei allora mio padre è un grande appassionato di musica e infatti non perché non perché fosse appassionato si chiama si chiamava Radames Radames è un nome egiziano è il nome c'è Federica la mia social media manager che quante volte ho sentito questa storia allora la mia bisnonna Luisa e per quello che vi ho detto ci avete 4-5 ore era appassionatissima la nonna di mio padre era appassionatissima alla musica in generale alla lirica in particolare ad un'opera l'Aida di Giuseppe Verdi ok all'interno dell'Aida vedo uno di voi sono contento che senti all'interno dell'Aida c'era questo personaggio fantastico che si chiamava che si chiama perché è vivo il personaggio è vivo si chiama Radames ok Radames era il capitano delle guardie dell'Aida di questa di questa opera mia bisnonna amava questa opera chiese ai genitori di mio padre di poter chiamare mio padre Radames in onore di questo personaggio che lei amava tantissimo mio padre per cui è stato il primo cosplay che ho conosciuto il primo cosplayer che ho conosciuto mio padre era appassionato tantissimo di lirica jazz e reggae io sono vivrei con reggae mi piacerebbe tantissimo vivere con reggae ma solo con reggae non si può mia madre invece cantava cantava a livello amatoriale non poteva fare la professionista però all'epoca scelse di fare la mamma per cui io sono cresciuto in una famiglia veramente di musica io ho spaccato un po' di sedie di similpelle forse anche qualcuna di pelle suonando la batteria mentre mio padre ascoltava il reggae o il jazz così non aveva cioè lui era mio padre è stato proprio mio padre e mia madre i miei primi fan fatto di tutto per aiutarmi e darmi la possibilità di continuare di realizzare nella vita il mio sogno cioè di poter lavorare mantenermi con la musica la musica ti scorreva già nel sangue sì assolutamente è assolutamente parte di te da lì parte dalla cameretta la cameretta con la chitarra i 4-5 accordi che uso per fare le sigle tutte le sigle che abbiamo fatto e da lì parte tutto insomma e poi alle sigle come ci sono arrivato? alle sigle sono arrivato grazie all'ammiraglio Max Max arrangiò fu chiamato da allora Max lavorava già come arrangiatore per il grandissimo Piero Cassano produttore di Eros Ramazzotti Piero Cassano viene chiamato da Alessandra Valerima Nera la direttrice il grande capo della fascia ragazzi nostra carissima ormai siamo vabbè lei dice no chiamami zia ma no perché c'è c'è una differenza minima d'età insomma però un po' un po' anche come figura insomma più è una famiglia no sì veramente una famiglia Alessandra un tesoro fantastico abbiamo imparato tantissimo da Alessandra niente iniziò ad arrangare Alessandra chiamò Piero Cassano Piero Cassano compose tre sigle dei cartoni animati e chiamò già lavorava con Max come arrangiatore chiamò Max ad arrangiare Alessandra ad arrangiare queste tre sigle dei cartoni animati Alessandra chiese poi a Max ma non ti andrebbe di produrre e comporre tu una sigla dei cartoni animati diciamo che io ero più la parte melodica insomma Max mi chiamò e mi disse ma ci sarebbe da fare la sigla di un cartone animato io dissi bene io con entusiasmo rispetto ad altri musicisti che adesso vorrebbero strisciando vorrebbero aver fatto no lo dico mi tolgo un sassolino perché sì le sigle dei cartoni animati erano considerate come un genere di serie B adesso c'è la fila di musicisti e di compositori che vorrebbe aver potuto o avere lo stesso percorso che abbiamo fatto io e Max al di là del fatto che poi Max è un grande produttore grande arrangiatore ha una nomination ai Latin Grammy ha prodotto Fausto Leali Patti Pravo Loredana Bertè tu stesso sei stato abbiamo scritto per Laura Pausini abbiamo veramente venduto tanti dischi anche nella musica diciamo più tradizionale però il mio brodo sono proprio le sigle dei cartoni animati insomma che ricordo hai invece dei cartoni e delle sigle di quando eri tu allora io dico sempre questo io non faccio le sigle perché a me piacciono i cartoni ma io sono un ecco per esempio tra l'altro sfatiamo no no non sfatiamo io sono un nerd più sulla fantascienza che sui cartoni animati però i cartoni animati tanti sono perché? perché mio padre leggeva tanti fumetti guardavamo i cartoni animati insieme c'era adesso non mi metterò a piangere va bene no mi manca molto mi manca molto c'era questa tradizione la vigilia di Natale guardavamo i cartoni insieme io e lui guardavamo i cartoni insieme sto facendo un grande sforzo per non commuovermi perché tutto questo fa parte è fortissimo della mia vita ha una parte molto forte della mia vita per cui inconsapevolmente guardavo i cartoni animati insieme a mio padre la sera della vigilia di Natale tutta la notte poi eravamo rincoglioniti la mattina mia madre diciamo inconsapevolmente poi mi ci sono trovato dentro però dico sempre io non è che faccio le sigle dei cartoni canto e produco le sigle dei cartoni animati perché mi piacciono tanto i cartoni animati perché sono musicista e perché non avevo nessun tipo di remora a approcciarmi a una sigla dei cartoni animati la prima era Superman come se facessi una canzone pop tale poi è successo What's My Destiny Dragon Ball che diciamo è la più forse che è What's My Destiny Dragon Ball e i Pokemon che sono le due più rappresentative più di successo quello che vuoi i Pokemon non sono stati ripresi ma What's My Destiny Dragon Ball è stata ripresa per esempio dal team di Gigi D'Agostino remixata introdotta in una compilation molto importante di successo in tutta Europa cioè non so il danese sentiva One Is My Destiny Dragon Ball sì va bene anche il danese conosceva Dragon Ball ma ascoltava una canzone cambiando invece diciamo tu sei stato voce appunto di una di una generazione come noi appunto che è cresciuta davanti alla televisione con i cartoni con le sigle i giovani di oggi invece hanno in Twitch e YouTube in questi nuovi media sì la nuova televisione tu da esterno tra virgolette come come vedi questo mondo questa appunto la nuova televisione questi nuovi canali ma io sono fortunato perché sono molto molto fortunato intanto perché mi mi coinvolgono cioè voi mi coinvolgete no proprio perché intanto io ho una seconda non so se dire è un po' da boomer dire giovinezza una seconda è un po' io ho l'effetto un po' non so se l'hai visto il film di Benjamin Button di con Brad Pitt cioè lui nasce vecchio sì e muore bimbo e muore bimbo e io vabbè comunque vabbè non è che sono proprio vecchio però non sono neanche giovane giovanissimo sono un mi hanno detto un vecchio giovane sono vabbè per cui si è ribaltata nel senso praticamente la 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 popolarità no che magari uno un artista no normalmente vede arrivare può chi diventa popolare dai 25 23 25 fino ai 30 35 io cioè l'ho ribaltata cioè mi è arrivata dai 40 no da una decina d'anni una cosa del genere più di una decina d'anni e per cui intanto appunto sono fortunato perché le le sigle che abbiamo fatto io e max sono iper super attuali perché sono iper super attuali perché le portate voi perché sono il vostro ricordo forte è come se io dicessi no quando io dico il mio artista preferito è Marvin Gaye non so se qualcuno di voi lo conosce Marvin Gaye per me è il top dei black singer compositori eccetera eccetera e io lo riporto adesso però le sigle di cartone animati i cartoni animati sono più forti cioè le sigle io mi rendo conto che il ricordo della sigla del cartone animato che comprende il fatto di sedere di arrivare a casa cioè quel ricordo lì è potentissimo lo vedo era un rituale sì è un rituale è potentissimo per cui è attuale questa cosa qua è molto attuale per cui cosa succede succede che il mio impatto con Twitch con le nuove tecnologie le nuove piattaforme è fantastico perché sono invitato perché perché mi accoglie no questa tecnologia mi accoglie grazie a voi tramite voi poi per quanto riguarda il mio uso di questa tecnologia o quello che penso io di questa tecnologia è fantastico ma tu sei sul pezzo no io sono sul pezzo intanto perché vabbè intanto perché mi piace molto è la mia natura poi perché ho dei collaboratori una collaboratrice in particolare che è lì che è veramente sul pezzo è fortissimo cioè per esempio una dico veramente una è una una cosa stavo dicendo una stupidata una stupidata non è una stupidata è una cosa semplice la chiamo e le dico io voglio fare qualcosa su tiktok ok perché mi piace ok però a me piace ballare per esempio io mi muovo io non so se hai mai visto un mio spettacolo su youtube mi muovo mi piace ballare cioè io sono un performer mi piace proprio performare allora ho detto però non voglio fare la solita roba di tiktok così cosa possiamo fare e lei mi ha suggerito questa cosa qua micidiale semplice è tanto semplice quanto micidiale io ieri ieri ho fatto un video su tiktok non l'hai ancora visto no va bene no dove molto semplicemente non sono il primo che lo fa invito i ragazzi a duettare con me e lo fa il primo video con Rossana ok ma un massacro cioè ragazzi un massacro mi aspettavo bene un massacro bello positivo positivo cosa succede succede che a me piace esibirmi mettermi davanti a una telecamera suonare cantare per cui va benissimo hai trovato un nuovo modo per fare live alla fine si si va benissimo si i live con tutti dobbiamo ricominciare a farli assolutamente però io dico soltanto che che siamo noi per esempio ci sono vari pareri che dicono ah internet è un è un un fenomeno negativo perché ma non solo i boomer non solo le persone più anziane lo dicono lo dicono magari anche anche 35 anni 40 anni ah internet è una roba tremenda perché succedono delle cose ma internet è un mezzo poi il mostro cioè non è internet il mostro non è youtube il mostro non è twitch il mostro non è twitter il mostro non sta nel nel mezzo il mezzo è una cosa fantastica meravigliosa è come tiktok è come tiktok questa roba qua di tiktok vanno a pensare che sia tiktok che cioè non è che se tu fai un video su tiktok diventi il diavolo cioè se sei tu il diavolo allora esprimerai su tiktok la tua natura è questo ti aiuta ti aiuta ma certo assolutamente se tu vai in piazza del duomo quando ci sono 200 mila persone e riesci a a parlare a queste 200 mila persone e a dare un messaggio negativo un messaggio che può magari influenzare i ragazzi eccetera eccetera non è che piazza del duomo la possibilità di parlare con questi ragazzi che è il mostro il mostro è quello che sta dicendo la cosa sei tu il mostro il nostro sei tu è solo il mezzo è un mezzo certo che va assolutamente regolarizzato va controllato sì c'è assolutamente poi sempre a proposito di youtube e twitch web nuovi nuovi media so che hai anche in cantiere un nuovo progetto sì sì sono molto emozionato e anche un po' spaventato perché condurrò un programma un format nuovo nuovissimo un quiz musicale che si chiama Catch the Song si chiamerà Catch the Song su una nuova piattaforma emozionato perché mi fa molto piacere che appunto questi questi produttori questa nuova piattaforma Hybe mi abbia chiamato anzi devo ringraziare il mio amico Leonardo De Carli che è un grande talent siamo molto amici abbiamo fatto delle cose insieme dei live insieme leonardo fa sarà il direttore artistico di questa di questa piattaforma e ha pensato di chiamare di chiamare il capitano per condurre questo format musicale questo quiz che si chiamerà appunto Catch the Song quindi adesso anche conduttore adesso anche conduttore e infatti sto studiando da Pippo Baudo da Amadeus che mi è piaciuto moltissimo perché ha avuto un compito veramente tremendo però l'ha svolto molto molto bene cioè condurre una manifestazione come Sanremo in cui il pubblico veramente è importantissimo ecco da qui un esempio che il web spacca perché è stata una manifestazione molto molto webmatica per cui per cui Twitch tutte queste piattaforme questa nuova televisione io la provo number one è fantastica e poi ci dà ecco una cosa invece importante che dico sempre a tantissimi ragazzi che ci scrivono e ci dicono ma come fare per noi vogliamo vogliamo produrre siamo musicisti vogliamo scrivere vogliamo fare ascoltare le nostre le nostre cose alcuni però ancora vorrebbero vorrebbero che l'intermediario fosse una casa discografica ragazzi basta non c'è più bisogno c'è il web c'è YouTube si fa in un certo modo se hai il talento giusto il web internet riuscirà in qualche modo a farti emergere per cui ciao televisione hello web ciao casa discografica e ciao casa sì le case discografiche sono importanti e tutto quanto però le case discografiche per esempio nel caso dei trapper e dei rapper li vanno a prendere quando già vabbè scusa sfera e basta era già spaccava già sul web Gali spaccava già Salmo spaccava già poi è cambiato molto Salmo si è un po' alleggerito mi piace ancora però si è alleggerito per cui c'è tutta quella struttura io direi abbastanza vecchia che non deve diventare io spero che non diventi obsoleta effettivamente è stata un certo tipo di lavoro che faceva questa struttura è stato sostituito assolutamente dal web ma è giusto che sia così grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti